Bacchi Un tecnico moda al tavolo centrale Il maestro moda complice Un tecnico moda al tavolo centrale Al tavolo centrale di Rosso Pettabile con l'allamento Fremazione di Lugani 32 femminile al podio Fiora e Serena Catapano Shakira Celamare Greta Fiora Catapano Celamare al podio Celamare di Natia Andrea da Luizio Giuseppe Centro Pellino De Luizio Giuseppe Centro Pellino De Luizio Giuseppe Ginevra Lupota vince la copermina Natale 2 di Rosa Piettavide Rolio Monalco Annovate Grazie a tutti.